Cosa non hai coraggio di dirti? Scoprilo con i tarocchi interattivi. Quello che devi fare è focalizzarti su una persona, quindi concentrati su una persona, sulla persona che ti interessa sapere, capire che cosa non hai il coraggio di dirti, e poi scegliere, fare una scelta, scegliere o il Buddha o la stele o la piramide. Scegli quello che istintivamente ti porta, ti dà più, come dire, una sensazione migliore fondamentalmente. Allora, partiamo dal Buddha, quindi temporaneamente togliamo la stesa della piramide e togliamo la stesa della stele. E partiamo con il Buddha. Che cosa non hai il coraggio di dirti? Allora, ha uno scrupolo di coscienza. Cioè, c'è qualcosa nella sua coscienza che non gli va a genio fondamentalmente. Ha qualcosa, qualche segreto che sta tenendo dentro di te. Diciamo, ti sta creando delle illusioni. Fondamentalmente tu stai proiettando qualcosa che in realtà non c'è, quindi delle percezioni erronee, distorte della realtà. E questo capita molto spesso, comunque si verifica molto spesso. Avere delle percezioni distorte della realtà. Sta cercando un compromesso con te. Quindi in realtà è probabile che ci sia qualche altra situazione, qualche altra persona, possiamo dire, che... con la quale magari questo soggetto interagisce. Il rettaggio ha dei problemi che provengono da lontano. Quindi una persona che di fatto è estremamente problematica con problemi provenienti da molto, molto lontano. E un'altra cosa, la quinta carta, è una persona scriteriata. Cioè fa delle cose, poi magari si pente di averle fatte. E da questo punto di vista manca molto, direi, di affidabilità. Per cui tieni presente anche questo fattore, che è sicuramente un fattore importante. E in ultimo sta cercando un suo processo di guarigione. Quindi potrebbe essere che ti ha tenuto nascosto una malattia, qualcosa, o un'ansia, un qualcosa. Ecco, quindi diciamo che ci sono tanti piccoli segreti che questa persona ha nei tuoi confronti. E che non ha il coraggio di dirti, perché da un certo punto di vista è la vergogna un po' quello che domina, diciamo, il suo modo di essere fondamentalmente. Ecco, questo è per quanto riguarda la stesa del Buddha. Adesso mettiamo via la stesa del Buddha e passiamo, perché ha scelto la stele, perché ha scelto la stele, passiamo all'altra stesa. E vediamo un attimino che cosa non ha il coraggio di dirti. Beh, che è una persona che va alla ricerca dell'armonia, quindi questo sta facendo un suo percorso interiore. Probabilmente vuole tenerlo per sé. Non ha il coraggio di dirti che ha paura a lasciarsi andare. Questa è una delle paure che attanagliano spesso gli esseri umani. La paura di lasciarsi andare, la paura di lasciare fluire gli eventi è una paura che hanno molte persone. Quindi probabilmente manca il coraggio anche di dire questo da un certo punto di vista. E sempre nel percorso di crescita spirituale ha probabilmente una guida, qualcuno che lo, diciamo un maestro, un guru, qualcuno che gli dà, che lo, come possiamo dire, che lo guida, che gli dà suggerimenti. Ed è comunque una persona che segue il flusso. Quindi quello che cerca di nasconderti, di tenere per sé, è tutto il suo percorso di crescita spirituale. Percorso che sta portando avanti e si manifesta però anche con una doppia faccia. Quindi è una persona ambigua però da questo punto di vista. Sono crescita spirituale che però mantengono sempre un po' di ambiguità. Quindi sempre un po' da tenere sotto controllo, diciamo. E questa è la trasformazione, i cambiamenti che questa persona ha costantemente nel tempo. E poi, in ultimo, che con te si sente un po' condizionato. E quindi tieni presente che si molla un po' la presa perché altrimenti il rischio è che questa persona possa veramente prendere altre strade, possa veramente, non dico chiudere la relazione, ma magari prendere strade diverse che... E quindi magari, insomma, non andare più avanti. Insomma, quindi questo è... Le persone che fanno un percorso di crescita spirituale o di crescita o di miglioramento interiore hanno comunque bisogno magari di un minimo più di libertà che bisognerebbe imparare a dare fondamentalmente. Mettiamo via questa stesa e passiamo all'ultima stesa per chi ha scelto la piramide. Perché ho scelto la piramide e vediamo che cosa non ha il coraggio di dirti. Beh, diciamo che è una persona un po' un parassita, diciamo, non ha il coraggio di dirti che vuole scroccare fondamentalmente. Si vuole aggrappare, è un po' una persona che tende a essere un po' parassita. Tende certo un completamento, va alla ricerca di un'unità che probabilmente tu immagina che tu potresti comunque in qualche modo dargli. Non ti sta... ti sta nascondendo anche problematiche, probabilmente di natura mentale, insomma, che non... anche serie magari. Quindi un po' persone magari che in qualche modo hanno delle sofferenze gradi e che tengono comunque nascoste per vergogna, anche qua per... Infatti va comunque alla ricerca di un'integrazione. Quindi ha questa consapevolezza di avere questo... come dire, questa falla che si sta aprendo probabilmente sempre di più. e sta percorrendo un suo viaggio. Quindi ti sta tenendo nascosto, se vogliamo dire nascosto, il suo viaggio interiore, diciamo. Vediamo la sesta carta, è anche i sensi di colpo. Cioè, una persona che ha molte conflittualità interiori, questo è fuori dubbio. Quindi tieni presente questi conflitti interiori, sono presenti fortemente nella sua vita. E come ultima carta, la settima, è vive nel passato. Quindi quello che ti sta dicendo, i tormenti del passato, che ti sta tenendo nascosto e che non hai il coraggio di dirti, sono proprio le problematiche a livello mentale che questa persona sta vivendo. Ecco, questo è per quanto riguarda anche questa stesa. Quindi se questo video ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ti ricordo che sul canale ti puoi anche abbonare sugli altri miei canali.